Avranno inizio a breve gli interventi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici del territorio del Parco Nazionale del Cilento. Vallo di Diano e Alburni per un ammontare complessivo di circa 5,3 milioni di euro in un lungo e articolato elenco di progetti già approvati e finanziati si concretizza l'impegno contro i cambiamenti climatici del Parco del Cilento. Lo ha reso noto il presidente Tommaso Pellegrino. I lavori oltre all'acquario virtuale di Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate e la sede centrale di Palazzo Mainenti di Vallo della Lucania di proprietà dell'ente parco riguarderanno gli istituti scolastici dei comuni che si sono candidati in seguito alla pubblicazione di una manifestazione di interesse. Sicignano degli Alburni, Laurino, Felitto, Casalbuono, Sassano, Polla, San Giovanni e Appiro, Cuccaro Vetere, Montano Antilia, Sanza e Alfano. Inoltre sono previsti anche interventi su alcune caserme dei carabinieri forestali quali quella di Petina, Laureana e di Montesano sulla Marcellana. Nell'ambito di altre iniziative previste sono da segnalare la realizzazione di due importanti piste ciclabili e alcuni interventi di mitigazione del rischio idrogeologico come quello che verrà realizzato nella pineta di Palinuro. Gli sforzi dell'ente parco, ha precisato Tommaso Pellegrino, sono da sempre rivolti verso la piena adozione delle energie rinnovabili a basso impatto ambientale con il conseguente progressivo abbandono delle energie da combustibili fossili e idrocarburi. L'area protetta e i comuni limitrofi devono aspirare ad un'autonomia energetica che sia il trionfo delle energie rinnovabili respingendo l'idea di realizzare nuovi e anacronistici impianti. Disfruttamento petrolifero ha concluso così il presidente Pellegrino. Grazie. Grazie.